Buongiorno a tutti, benvenuti ad un'altra video-lezione sui nostri filosofi che affrontiamo in classe, di cui leggiamo tantissime belle riflessioni, tantissime intuizioni soprattutto. Pascal è uno di questi. Pascal sicuramente, almeno ricordo in giovane età, fu uno dei più provocatori, filosofi che affrontai in quarta liceo. Pascal è il filosofo della scommessa, della scommessa con Dio, abbiamo messo come immagine due giocatori d'azzardo, alla fine la vita è un gioco d'azzardo, dobbiamo scommettere, la più grande scommessa è proprio quella se stare con Dio o stare contro a Dio come se non esistesse, ecco. Interessante e problematica. Ma vediamo chi è Pascal. Pascal nasce a Clermont, è francese, nel 1623, anche lui, come tutti, i filosofi della sua epoca, cerca di scardinare la costruzione cartesiana, la costruzione metafisica cartesiana, attaccandola, cercando di utilizzare la tecnica del trovare una contraddizione, trovare qualcosa che non torna per far crollare tutto l'edificio. Il punto erato è proprio quello del vuoto, ad esempio. La metafisica cartesiana non prevedeva l'esistenza del vuoto, lui approfitta della dimostrazione di Torricelli, l'esperimento di Torricelli, che invece riesce a creare il vuoto, permette a Pascal di mostrare che tutte le dimostrazioni, cioè tutto ciò che noi crediamo essere vero, di aver dimostrato, che però non si basano su dati scientifici, perché anche Pascal è uno scienziato, ancora prima che filosofo, che non si basano su osservazione e ripetibilità della cosa, sono prive di certezza. Cioè Cartesio osservava una cosa, faceva un'ipotesi e poi ci costruiva un ragionamento. Questa cosa del ragionamento che viene prima della sperimentazione, dell'osservazione sperimentale, della ripetibilità dell'osservazione, è un cavallo di battaglia degli empirici. Pascal è uno scienziato e quindi dice che Cartesio ha costruito tutto senza rendersi conto che c'era qualcuno nel frattempo che stava dimostrando che il vuoto c'era, semplicemente perché ha usato il ragionamento invece che la dimostrazione empirica. E quindi, partendo da questo, Pascal fa una riflessione sull'animo umano. Cosa possiamo osservare dell'animo umano? Che cosa ci rendiamo conto, sperimentalmente, che l'animo umano vive? Ci rendiamo conto che l'animo umano è contraddistinto da una duplice natura. Da una parte è un gigante, da una parte noi abbiamo l'uomo come più grande elemento vivente sulla faccia della terra, che scompie e compie imprese impossibili, evolve con una velocità inimmaginabile, ma dall'altra parte misero è lo stesso di diecimila anni fa, sei sempre l'uomo della pietra, diceva una poesia, sei sempre quello che si ammazza a bastonate, ora ci ammazziamo con... ma sempre quelli siamo, con le bombe atomiche, con le bombe a grappolo. Quindi è un aspetto paradossale questa cosa, cioè come fa l'uomo essere sia grande che misero? Perché c'è una natura contraddittoria nell'uomo, cioè c'è una contraddizione di fondo, fra due elementi chiamati ragione e cuore. Da una parte, cioè entrambi positivi, entrambi due strumenti, che creano due forme di conoscenza diverse, le prix de geometrie e le prix de finesse, lo diciamo in francese perché Pasquale era francese, lo spirito di geometria e lo spirito di finezza. Confondere queste due cose o, come dire, permettere a una di essere superiore all'altra, ha creato o crea spesso le contraddizioni nell'uomo, perché ci sono domande, dice Pascal, a cui la ragione non può rispondere. Cioè ci sono delle domande ultime sull'uomo, sul perché siamo al mondo, sul perché siamo tristi, sul perché amiamo, che non sono definibili, ci vuole lo spirito di finezza, cioè ci vuole il cuore più che la ha ragione. Questo cuore è ciò che dentro di noi abbiamo insito, inalienabile, come dire, innato, che ci dà l'ordine morale. Ci dà ordine morale, dà ordine morale alla nostra vita, ma non solo. Dà ordine morale anche a questioni di ordine epistemologico, cioè su come noi dobbiamo agire per comprendere. Cioè spesso e volentieri è meglio usare il cuore nella conoscenza che non la ragione, perché il cuore è innato, ha delle caratteristiche che gli permettono di rispondere in modo innato alle domande che gli vengono poste. Quindi fino in fondo nel cuore ce l'abbiamo, no? È una sorta di idea platonica che è, la conosciamo, diceva Platone, perché l'abbiamo conosciuta, così il cuore risponde a un qualcosa che sa. E poi la famosa scommessa, quindi le prie de finesse, le prie de geometrie, la distruzione di Cartesio, ma ciò che ricordiamo moltissimo di Pascal è la scommessa. Perché questa natura paradossale dell'uomo lo mette in crisi, cioè chi è di noi che ogni tanto non è in difficoltà di fronte alle domande? Non solo quando ti capita qualcosa che ti mette in crisi, la ragazza che ti lascia, qualcuno che ci lascia definitivamente un evento vicino a noi che ci sconvolge, una malattia. Spesso noi di fronte a queste domande rispondiamo, dice Pascal, con una parola francese, il divertissement. Che cos'è il divertissement? È una parola francese che è difficilmente traducibile, è un qualcosa che ci permette di distrarci. Noi ci appaghiamo tramite dei beni materiali, dice Pascal, ci riempiamo finché possiamo di beni materiali, quindi troviamo altre ragazze, il sesso, il cibo, lo sport, il successo, il denaro, la moto, la macchina, il bel appartamento, i bei mobili, i bei vestiti. Perché abbiamo bisogno di distrarci dalle domande essenziali. Però queste cose fondamentalmente nel momento in cui emerge di nuovo questo bisogno le sentiamo inadeguate a rispondere alle domande. Perché sono finite, sono cose finite, mentre il nostro cuore ha un bisogno infinito. È un po' Leopardi, Leopardi che guarda la luna, no? Perché è luna? A che luna? Che fai? A che tante facelle? Perché ci sono tutte queste stelle, porca miseria? Perché noi desideriamo l'infinito e invece cerchiamo sempre delle risposte finite, dice Pascal. Mentre invece il nostro cuore può rispondere a questa natura esistenziale, però dobbiamo fare una cosa prima, fare una scommessa. Ci sono due possibilità di scelta. Pascal era religioso, era cristiano, era un... aiuto, un botto di memoria... un jansenista, quindi un cristianesimo che sfiorava l'eresia, però è fortemente credente vivere come se Dio esistesse. Bisogna vivere come se Dio esistesse, oppure vivere come se Dio non esistesse. Siccome la ragione ci fa capire che quando noi viviamo come se Dio non esistesse, rimaniamo sempre nell'angoscia, ci ricadiamo in questo continuo tentativo di appagarci materialmente che non ci soddisfa, allora ci rimane soltanto un'altra opzione, vivere e scommettere che Dio esista. Non ne siamo certi. Nessuna dimostrazione a priori e posteriore ci convincerà mai dell'esistenza di Dio. Nulla di ciò che speriamo ci convincerà mai dell'esistenza di Dio, dice Pascal. Possiamo solamente scommettere che Dio esiste, vivere come se Dio esiste. Questo ci renderà felici, non lo so, però sicuramente non ci renderà infelici. Va bene, vi lascio con questa provocazione pascaliana, magari ne abbiamo discusso, ne discuteremo in classe con chi avrò ad affrontare con me questa bellissima provocazione. Buon lavoro a tutti e studiate sui libri sempre perché le mie video-lezioni non sono un gran culo. Ciao a tutti!